C'è la tradizione, ci sono i giacimenti, ma non sempre in Sudafrica ciò che brilla è un diamante. In migliaia hanno preso un abbaglio, sono accorsi su una collina nella provincia sudafricana di KwaZulu-Natal, a 300 chilometri da Johannesburg, per cercare le pietre preziose, anche se il governo invita la cautela e sostiene che potrebbero essere ciotoli senza valore. Ecco, lo sto tenendo in mano ed è come una piramide, come potete vedere. È per davvero qualcosa di reale, dice questo cercatore. Nel paese che ha portato alla luce il più grande diamante della storia, il Cullinan, e che ha fatto la fortuna della dinastia De Beers, i sogni sono permessi, ma la materia di cui sono fatti sembra essere quarzo. Potrebbe esserci una probabilità che ci siano diamanti, sostiene quest'altra cercatrice, perché il sito è vicino a un fiume e stiamo trovando pietre come questa. Ma sì, al momento penso che tutti stiano trovando il quarzo. Non abbiamo la possibilità di verificarlo, con certezza ora, quindi sì, stiamo aspettando quello che poi sapremo in via definitiva. La leggenda vuole che il Cullinan, da 3106 caratti, scoperto in Sudafrica nel 1905, prima dell'estrazione industriale, sia stato trovato a pochi metri dalla superficie con un coltello tascabile. L'ipotesi di un ritrovamento così prezioso vale la scommessa di molti.